Sviluppare e sperimentare un sistema di telemedicina innovativo, adatto a fornire assistenza in zone remote per diverse tipologie di procedure clinico-diagnostiche e terapeutiche. Questo è il contenuto del progetto presentato all'ospedale di Barga, prima la prova pratica e quindi un esame vascolare sulla carotide con un operatore a Barga assieme alla paziente e lo specialista Pisa che interagiva attivamente durante l'esame ecografico. Direi che è un progetto pilota perché la fondazione Cassa Risparmio di Lucca finanzia questo tipo di iniziativa per facilitare i rapporti tra i professionisti che lavorano in ospedali generalisti, piccoli ospedali periferici con le strutture centrali, quindi in questo caso con l'università, in modo particolare con la unità operativa di chirurgia vascolare diretta dal professor Mauro Ferrari. Sì, è un progetto che potremmo definire di telemedicina o di teleconsulto in cui un operatore, definiamolo remoto, può essere in contatto in questo caso con l'università di Pisa ma teoricamente anche con altri operatori di altri ospedali per consentire di avere un secondo parere magari da parte di uno specialista con un maggior livello di esperienza. Tutto questo è stato reso possibile grazie al contributo della fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che da sempre segue con grande attenzione la ricerca e l'innovazione scientifica. Ogni ricerca ha un riflesso pratico, basta vedere quello che succede in questo frangente in cui praticamente un ospedale come quello di Barghia, un ospedale di periferia può avere delle risposte, dei risultati di eccellenza essendo in contatto con un ospedale di Cisanello di Pisa dove esistono dei specialisti di alto livello. Piena soddisfazione da parte dell'ASL è stata espressa anche da Romana Lombardi e Michela Maielli che hanno sottolineato come grazie alle nuove tecnologie anche le zone apparentemente marginali possono avere un servizio di altissimo livello. I nostri ospedali hanno bisogno di mantenere i servizi che ci sono, migliorare questi servizi e poi attraverso questi progetti appunto riuscire ad avvicinare le specializzazioni sul nostro territorio.